Musica Bagno di folla qui in sala stamparai in attesa del volo che presenta la 69esima edizione del festival di Sanremo musica che resta tanti sono i giornalisti ma soprattutto i fan che stanno attendendo i propri benemini il riscontro del pubblico nel teatro è stato super positivo c'è stato un piccolo cambio leggero negli arrangiamenti grazie a Michele Canova quindi cerchiamo comunque di evolverci in qualche modo senza perdere mai la nostra personalità è chiaro che il festival di 4 anni fa era diverso, c'era un cast diverso quest'anno ci sono più giovani, anche dei talent, tanti nomi importanti anche come adesso non faccio tutti i nomi però ci sono artisti che anche in un anno hanno avuto un grandissimo successo non solo discografico ma anche live, quindi vuol dire che la musica comunque sta cambiando Che cosa hanno rappresentato per voi questi dieci anni? Per noi è un grande traguardo, davvero un grande traguardo Grazie